Non accetta di andare in dormitorio, però ho voglia di parlare e Franco si racconta. Si racconta e inizia il suo racconto 16 anni prima, da quel 23 gennaio del 2017. Inizia il suo racconto dal 2001. Franco è spavaldo, è ribelle, è spocchioso, è sicuro, è sicuro. Franco ha un lavoro, ha una compagna, ha una casa. E' spavaldo come tutti noi quando pensiamo di essere tranquilli, quando pensiamo di stare in una situazione sicura e protetta. Franco nel raccontarsi però va in un giorno preciso, ci porta in un giorno preciso, ci porta il 20 luglio del 2001. Franco è al bar, sapeva non campare con gli amici. Franco è al bar, sapeva non campare con gli amici. La rivoluzione è comoda, dai canzolo al caso per i soldi di papà. La rivoluzione è comoda, dai canzolo al caso per le proprie panità. Difermente nella mente, bene mentre sono da me. A me si messe più scienchi e non vengono ci ora rilassi. Diferenti sogni, tanti pisti mega dirigenti. La rivoluzione è comoda, dai canzolo al caso per i soldi di papà. La rivoluzione è comoda, dai canzolo al caso per i soldi di papà. La rivoluzione è comoda, dai canzolo al caso per le proprie panità. La rivoluzione è comoda, dai canzolo al caso per i soldi di papà. E' stato appunto il corpo di questo ragazzo ucciso. E' cominciato un grida e il lancio anche di pietre contro le forze dell'ordine. Grida di assassini e assassini. E' stata una giornata appunto di... Messa parassidosi in America Latina. Sono morto per le strade coi ragazzi in Palestina. Nella strage di piazza Fontana. Un pallotto lavagante per la polizia italiana. Io sono lo scarto, il difetto nel sistema. Matita spezzata per la polizia argentina. L'ideale tradito di giustizia sociale. Io sono quel ragazzo con in mano l'estintore.